Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, oggi siamo presso l'associazione culturale Vogueira E perché presso la sala del millenario in Piazza Duomo si svolgeranno un paio di appuntamenti il cui titolo è L'Europa allo specchio, un'idea in questione. Il primo di questi due appuntamenti avverrà venerdì 5 maggio alle ore 21 quando Francesco Lezza dialogherà con l'autore Alessandro Galvan sul tema Le radici vive dell'Europa. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, quale sarà la struttura di questo incontro? Beh, la struttura di questo incontro sarà sicuramente, mi auguro, sarà senz'altro un dialogo vivo su appunto questo tema Le radici dell'Europa che immagino spazierà non molto sulle radici storiche e quelle culturali ma senz'altro anche sulle radici religiose, politiche e filosofiche e senz'altro, conoscendo il professor Galvan, appunto dell'Europa. Il mio compito sarà, il mio onore e onere sarà senz'altro quello di essere un ottimo interlocutore per quello che conosco essere un ottimo autore e una persona veramente preparata su qualsiasi tema sia che si tratti di storia che di filosofia in quanto facente parte lui del gruppo di ricerca filosofica quindi spero sia, ecco, spero di essere il degno presentatore di un'ottima serata. Secondo appuntamento venerdì 12 maggio alle ore 21 il titolo è Gli orizzonti d'Europa, prospettive scelte Giulio Torlaschi dialoga con l'autore Matteo Canevari Giulio, invece in questo caso quale sarà la tematica di questo incontro? E diciamo che è una tematica che sarà molto attuale anche proprio in un'ottica di cronaca di quello che sentiamo tutti i giorni perché è notizia di qualche settimana fa che è stato presentato un documento da parte della Commissione Europea dove effettivamente ci si interroga su quale sarà il futuro dell'Unione Europea anche in un'ottica, anche in base a quello che è successo agli ultimi fatti come la Brexit o le elezioni francesi che è sostanzialmente il fatto di dire come facciamo, andiamo avanti, torniamo indietro lasciamo le cose come sono quindi uno scenario sul quale, è vero, non è stata presa una posizione una posizione efficace però sul quale bisogna confrontarsi ed è una cosa anche urgente proprio per il nostro futuro Qual è il futuro, nella vostra opinione personale, di questa Unione? Come la vedete tra dieci anni? Beh, onestamente non so di preciso come vedere l'Unione Europea tra dieci anni quello che mi auspico senz'altro è un'Unione sempre più forte e dal mio punto di vista, io che sono nato nel 1993 quindi addirittura di fatto dopo Maastricht con un'Unione, con i confini assolutamente e totalmente aperti mi auguro che quest'Unione, l'Unione di questo tipo quindi non solo monetaria ma anche politica possa portare sempre più la formazione di quello che possiamo definire uno Stato continente anacronistico da un certo punto di vista ha radici nazionalistiche dell'Europa però che possa appunto superare queste radici e integrarci sotto altre radici che siano Spagna, Germania, Svezia, Italia comunque abbiamo un sentire comune e c'è la necessità secondo me di una legislazione comune e di una politica comune europea Questa sensazione palpabile che l'Unione Europea sia lì quasi per disintegrarsi in un certo senso questi confini possono tornare a sorgere più numerosi che mai secondo te potrà trasformarsi in realtà? Sicuramente sta colpendo a fondo i cittadini europei per tutta una serie di tematiche anche riguardo all'occupazione, al futuro, ai flussi migratori però penso che con i trattati di Maastricht io sono del 92, io sono nato solo un mese prima anzi sì un mese prima dei trattati della firma proprio della ratifica del trattato di Maastricht io penso che ci sia stata una rivoluzione copernicana nel modo in cui insomma della concezione che abbiamo di Stato, di Nazione da cui difficilmente si potrà tornare indietro anche se vedo molti rischi, molti ostacoli lungo questa strada come la Brexit o l'emergere di partiti populisti di movimenti contrari all'Europa contrari all'apertura penso comunque che il nostro futuro sarà in Europa dobbiamo preoccuparci di come sarà il futuro in Europa di come costruire l'Europa della democrazia l'Europa dei cittadini europei questo ci vuole alla fine è l'unico orizzonte possibile che possa davvero portare benessere e prosperità a tutti e quindi se ne parlerà presso la Sala del Millenario di Piazza Duomo venerdì 5 maggio alle ore 21 e venerdì 12 maggio sempre alle ore 21 grazie mille grazie 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 grazie